Oggi ci troviamo a Terni dove è stato siglato un importantissimo accordo sindacale che prevede l'internalizzazione dei servizi di due case di riposo side in questo territorio che interessano 41 lavoratori 41 lavoratori che vedono migliorare la loro condizione lavorativa transitando da un contratto depotenziato all'applicazione del contratto nazionale dell'UNEBA quindi avranno oltre che un miglioramento della retribuzione condizioni più vantaggiose che riguardano pure il welfare contrattuale esprimo un'enorme soddisfazione per questo accordo contro tendenza e l'auspicio che sia di apripista per altre situazioni presenti non solo in questo territorio ma in tutta la regione mi preme ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questi giorni ci hanno sostenuto e dato fiducia in questa operazione non ultimo ma non ultimo il collega che opera su Terni Sergio Sabatini per la preziosa collaborazione